È stata una gara molto difficile, già nei primi giro ho cercato di rubare la prima posizione partendo dalla terza, anche se non ci sono riuscito, sono stato per più di metà gara dietro Shure che dopo quando le pressioni sono iniziate a funzionare sono riuscito a passarlo e andare via.